Questo è un lattario, non è il delizioso o il sanguiflus, è comunque un lattario che è mangiabile. Guardate sotto le macchettine del latte, è un fungo che normalmente la gente non conosce, è piuttosto coriaceo, va cotta a fiamma viva, non ha il valore alimentare e la gradevolezza del sanguiflus o delizioso, però è anche questo un fungo da tenere presente, magari in un mese. Arrivederci. Poi vi dirò, come al solito, tutta la parte di scala.